Ciao a tutti, sono Fabrizio Ciancio di Radio Italiana in Florida. Ho avuto un'idea di realizzare un programma che potesse essere veramente d'aiuto a tutte le persone italiane e le persone a cui piace la lingua italiana. Ho chiesto quindi ai professionisti di Applied Scholastics, che si occupa da sempre di insegnare a come insegnare, di realizzarlo. Loro, devo dire che in maniera molto professionale, lo hanno fatto. Eccovi quindi il loro meraviglioso lavoro di oggi. Chiariremo ora la parola populismo. La prima definizione di populismo è movimento culturale e politico sviluppatosi in Russia tra l'ultimo quarto del secolo XIX e gli inizi del secolo XX. Si proponeva di raggiungere, attraverso l'attività di propaganda e proselitismo svolta dagli intellettuali presso il popolo e con una diretta azione rivoluzionaria, culminata nel 1881 con l'uccisione dello zara Alessandro II, un miglioramento delle condizioni di vita delle classi diseredate, specialmente dei contadini e dei servi della Gleba, e la realizzazione di una specie di socialismo rurale basato sulla comunità rurale russa, in antitesi alla società industriale occidentale. Si dice quindi, il movimento populista russo nacque intorno alla fine del 1800. Il populismo nacque in Russia. Una seconda definizione è atteggiamento o movimento politico, sociale o culturale, che tende all'elevamento delle classi più povere, senza riferimento a una specifica forma di socialismo e a una precisa impostazione dottrinale. Secondo questa definizione diciamo quindi, quello è un partito populista, queste idee sono populiste, il populismo è diverso dal socialismo. La terza definizione è spregiativa. Atteggiamento politico demagogico, che ha come unico scopo quello di accattivarsi il favore della gente. Demagogia è un termine di origine greca, composto di demos, popolo, e again, trascinare, che indica un comportamento politico che, attraverso false promesse vicine ai desideri del popolo, mira ad accaperrarsi il suo favore ai fini politici, per il raggiungimento o conservazione del potere. Quindi questa definizione, usata in senso dispregiativo, perché insinua che qualcuno sia populista per usare il favore del popolo per raggiungere e o mantenere il potere come secondo fine o fine nascosto, invece di favorire il benessere del popolo come promesso. Infatti spesso sentiamo dire, il populismo è l'antipolitica, il populismo minaccia l'Europa, il populismo è deleterio agli interessi della nazione. La parola populismo è praticamente un neologismo, anche se è creata verso il fine ottocento. Deriva comunque dalla parola popolo, che a sua volta deriva dalla parola latina populus, che è una storpiatura della parola polpulus. A sua volta, polpulus deriva dalla radice par o pal, che dà il senso di mettere assieme e riunire, derivante dal sanscrito, un'antica lingua dell'India. E dalla parola pulus, che significa molto, in assonanza a diverse altre parole, che danno il senso di moltitudine, tribù, pieno, folla, adunanza di persone. Il chiarimento di questa parola finisce qui. A risentirci alla prossima parola.